Buongiorno, ben ritrovati a tutti, carissimi telespettatori di FanoTV, oggi è giovedì 10 maggio e questa è la rassegna stampa di FanoTV su un canale 17. Allora una serena mattinata come sempre, l'augurio che vi facciamo alle 7.30 del mattino in diretta. Partiamo subito dal santo del giorno e poi vediamo le previsioni del tempo. Allora oggi è San Giovanni Davila, è stato un sacerdote, è stato dichiarato dottore della chiesa nel 2012 da Benedetto XVI. Il sole è sorto alle 5.47, tramonterà alle 20.21. Ieri abbiamo, per chi era sulla costa, almeno a Fano, l'abbiamo vista un po' così, un po' brutta, il tempo è piovuto fino all'entroterra ma si è fermato lì. Oggi che cosa prevede la protezione civile delle Marche? Avremo dalla tarda mattinata rovescio temporali sparsi nelle zone interne e locali lungo la fascia costiera. Fenomeni più intensi nelle zone collinari e montane, quindi più o meno una fotocopia rispetto a quella di ieri, ma con l'aggravante che passerà forse anche qualche cosa lungo la costa. Poi domani, domani venerdì 11 maggio, il tempo continua a essere brutto con brevi rovescio temporali sparsi nell'entroterra, soprattutto al pomeriggio, mentre sabato 12 maggio, ancora tempo perturbato in montagna con rovescio temporali sparsi nel pomeriggio, in estensione nelle zone basso collinari e anche costiere per la giornata di sabato. Poi il tempo, questa tendenza al peggioramento a partire da domenica per il possibile transito di perturbazioni in successione provenienti dall'Adriatico. Insomma, questa primavera che non vuole sbocciare così come ce la ricordavamo con dei periodi belli prolungati di bel tempo. No, sarà tutto a intermittenza. Allora, la VL, e parliamo di sport, perché in questi giorni, come di solito accade a maggio, si concludono i campionati, eccetera, eccetera, è bene se c'è la salvezza della squadra di basket pesarese. Dopo la promozione in Serie C della Vis, per Pesaro arriva quest'altra soddisfazione, la salvezza della VL. E questa emerita, questa notizia, la fotonotizia centropagina del Corriere Adriatico in Medicola questa mattina. Dolce sconfitta, la VL salva, i biancorossi mai in partita a Sassari hanno perso 112-81, ma perde anche Capodorlando e quindi si salvano. Finisce bene una stagione sempre con il cuore in gola. Ma l'apertura è per il di porto, traina la nautica, porto più slancio con il piano regolatore, numeri confortanti dal centro studi della CNA, bene le commesse per gli yacht. Poi c'è stato un incontro per spiegare come cercare di non farsi, come affrontare anche in termini di sicurezza queste serate, queste nottate, poi si va verso l'estate, quindi i ladri sono sempre in azione. Ebbene, i colpi nelle abitazioni, c'è stato un confronto con le vittime, l'aiuto dello psicologo per superare il trauma. Perché? Perché dopo un furto, chi l'ha subito sa benissimo di cosa sto parlando, dopo il furto in casa solo delle notti insonni. E non c'è solo dunque l'aspetto della cronaca, perché un furto subito, oltre al danno economico, rappresenta un trauma psicologico. Ed è stato questo il filo conduttore di questo incontro dal titolo sicurezza dentro e fuori, prevenzione e psicologia organizzato allo spazio salute del San Decenzio. La pagina di Fano del Corriere questa mattina apre con la casa di riposo un clamoroso pasticcio, duello in aula, in consiglio comunale tra Barnesi e Del Vecchio. Scade la gara d'appalto, dove andranno gli anziani? L'assessore risponde, sono solo allarmismi. Come dire, non vi preoccupate, abbiamo tutto sotto controllo. Vaccini, nessuno invece resterà fuori dalla scuola, anche Fano rinvia al prossimo anno l'obbligatorietà, quindi asili nido, sezioni primarie, primavera e scuole materne. Cosa accade a seguito di questo obbligo di vaccinazione introdotto nel bel mezzo dell'estate scorsa? Nessuno verrà lasciato a casa, questa è la notizia più importante che arriva dall'Asur 1 di Fano. Tra le iniziative più importanti di Fano, che si inseriscono all'inizio dell'estate, c'è sicuramente Sapore e Motore, questo connubio che piace sempre. Torna nella vecchia sede a Lido, sarà l'edizione del riscatto per questa manifestazione che unisce la passione per i motori e il gusto, sostegno della sindaco serie e del consigliere regionale Rapa, via l'8 giugno con i raduni a Arley, Ferrari e Mustang. Insomma, una iniziativa che è stata presentata ieri dagli organizzatori. A Tombaccia, invece, un quartiere di Fano, questa volta i residenti alzano la voce, asfalti, ciclabile e contratto di fiume. Assemblea con i Cinque Stelle che presentano una interrogazione, un'interpellanza e la richiesta di accesso agli atti. I residenti dicono, qui solo coperture delle buche che hanno retto appena alcuni mesi. Anche noi con il nostro telegiornale ce ne siamo occupati qualche tempo fa. Riforma bancaria, BCC di Fano aderisce all'Icrea, il presidente dice autonomia comunque salva, domenica si svolge l'assemblea dei soci. Ricci, e andiamo a Pesaro, pensa ad un'altra rotatoria sulla statale all'incrocio con strada Fornace-Mancini, a Cattabrighe, nodi traffico e sicurezza. E in 200 hanno partecipato l'altra sera alla passeggiata con il sindaco. Caro mio passeggiata, sono, mi pare, diversi chilometri. Avanti anche con il collegamento della famiglia che interessa Vismara. E poi sotto Emanuele non è stato affatto abbandonato. La madre è illegale e l'Avap si sono subito attivati per supportare il giovane. E questa è una storia che riguarda questo giovane che si trova in questa storia cautelare in relazione all'arresto per fatti di droga. Radio Veronica, la storica Radio Veronica, cava il poker con quattro voci della sua storia. Con Pansino, Cori, Trebbi e Maggi si va in onda on the road dai locali. E questa iniziativa, che tra l'altro ha un titolo anche accattivante, il titolo è Non è una radio per vecchi. È un nuovo show che andrà appunto in onda su Radio Veronica, che come sapete è stata un po' ridimensionata dalle vicissitudini ultime. Però nel territorio pesarese si può ascoltare. E adesso c'è questa voglia di riscatto. E allora lunedì prossimo si ricomincia ufficialmente con le dirette. Però ci sarà un'anteprima sabato. E questa è la foto di gruppo con appunto i protagonisti di questo rilancio. Anche se, a mio modesto parere, ne mancherebbe uno che è Luciano Pazzaglia. Ma adesso evidentemente ha altri impegni. Però sarebbe bello riportarlo. Allora, Closciare. Andiamo a Senigallia. Closciare ubriaco, semi nel panico, il pronto soccorso. L'uomo portato in ospedale fugge e aggredisce una ragazza, fermato a fatica dalla polizia, è stato denunciato e rimesso in libertà. Il cinquantenne dormiva, lo vedete, tra i corridoi dell'ospedale di Senigallia. Ha questo accento romano di circa 50 anni. Da alcuni giorni si accampava nel parco di via del Molinello. Andiamo adesso invece sull'altra pagina del Corriere Adriatico. Questa volta per parlare di trasporti dei treni. Chi prende il treno per andare a Milano purtroppo avrà qualche problemino. Non solo adesso per andare a Roma, perché l'Udissea lì non è mai terminata. Continua, andare a Roma è una tragedia con il treno. Ma ci sono treni cancellati anche per Milano. Due addirittura. Sono stati soppressi due freccia bianca. Ieri 150 minuti di ritardo per il maltempo. Da Vallefoglia i titoli Mostra del libro Carpi Diem. L'edizione numero 41 si svolgerà a Morciola Sporting e sarà dedicata all'autore di Cion Cion Blu. L'altra pagina, quella di Urbino invece, con musicoterapia e tablet si aiuta la vita degli anziani. La residenza Montefetro si apre all'esterno superando l'assistenza tradizionale. Poi potrete leggere sotto invece la notizia che Cagli premia Marinelli, Gambioli e Urbinati. Civiche benemerenze per l'impegno profuso nel nome della città. Ieri abbiamo detto era il patrono di Cagli, il santo patrono. E quindi l'amministrazione come sempre ha consegnato le civiche benemerenze del 2018. Dalla Valle del Cesano invece Mura Castellane al sicuro. Il sindaco risponde al PD sulla presenza, e qui siamo a Mondolfo, di crepe e smagliature in alcuni tratti. Ci sarà un intervento di manutenzione all'angolo tra le vie Marconi e Vandali. Poi sotto invece, guardate questa fotografia, il sindaco Baldelli non è la prima volta che ci regala questi scatti fotografici, anche curiosi se vogliamo. Ma insomma fa capire anche la tenacia di questo sindaco che non si lascia battere, soprattutto quando da Roma non arrivano buone notizie. Ebbene, il sindaco Baldelli ripulisce marciapiedi, strade e parchi. Siamo a Pergola con lui, giunta e consiglio. Roma indecorosa dice Baldelli, noi ci rimbocchiamo le maniche. E che cosa fa? Appunto si è messo a tagliare l'erba con tanto di frullino e poi con il tosaerba. E adesso cambiamo giornale dal Corriere Adriatico, passiamo al resto del Carlino. In primo piano sempre lo sport con la VL che si salva. E dunque grazie Cremona, travolta a Sassari la VL, ma Capodorlando perde e retrocede i tifosi naturalmente in festa. Le banchine sono vecchie invece, ma il porto reggerà ancora. Percorsi guidati per i diportisti che attraccheranno nella nuova Darsena. Il cantiere Navale Rossini è corso ai ripari, allungando però i tempi. L'autorità evidenzia il degrado e ne limita dunque l'accesso. E tra poco vedremo anche di questo violento temporale che ha questa bomba d'acqua, come viene chiamata a volte, che ha colpito anche il territorio urbinato, in particolare Canavaccio. Andiamo sulla pagina di Fossombrone Caglio Urbani. Intanto per questo aggiornamento su Don Eugenio. Ieri la notizia ha colpito in tanti, soprattutto parrocchiani e nonna che lo hanno conosciuto. Don Eugenio, lo ricordiamo, che avrebbe tra l'altro compiuto 73 anni il prossimo 15 maggio. Don Eugenio Giorgini, ex parroco di Sterpeti, scomparso martedì per un malore fatale mentre si trovava in provincia di Ravenna. L'autorità giudiziaria ha escluso l'autopsia sulla salma. Ieri sera non era stabilita ancora la data dei funerali. Ieri si è stato un incontro in Curia insieme al Vescovo di Fano Tresati per stabilire e capire un attimo com'è e come muoversi e quando fare i funerali. Quindi oggi probabilmente si saprà qualcosa di più. Però ecco, quello che è bello ricordare di Don Eugenio, a parte il suo caratterino un po' a volte burbero, ma qualcuno lo definiva, scrive il Carlino, un po' svizzero ma in senso buono. Lui amava in qualche modo la solitudine, anche la natura, contemplare la natura in solitudine e quindi forse in questo ultimo tratto della sua vita era andato un po' in quei posti dove gli ricordava un po' la sua infanzia. E questo, ecco, anche per sgomberare qualche stupidata che ieri il giornale ha scritto. Mi ricandiderò sindaco di Caglia, Alessandri replica ai fuoriusciti e si spinge oltre. Valeri vuole il mio posto. Andiamo adesso invece a parlare di Aset. Aset, Marche Multiservizi. Insomma, la fotografia che vedete è per il presidente di Marche Multiservizi, Massimo Galuzzi, l'azienda pubblica con era socio più forte che guarda sempre a Fano e soprattutto ad Aset, è sotto Riccardo Severi che dice sono l'unico che ha votato contro, vorrei un'Aset competitiva sul mercato. Però c'è chi dice non basta più quello che si diceva una volta, piccolo e bello. Severi dice con la fanesitudine su Aset si prendono solo voti. Insomma, si ipotizza un dialogo con Marche Multiservizi, scatta però la mozione preventiva solo società pubbliche. C'è tutta l'intervista che potrete leggere sul giornale di questa mattina. Allora, la pagina di Fano è per la corsa delle bighe notturna. Come sapete è stata approvata all'unanimità solo due mi pare astenuti in consiglio per riproporre questa Fano dei Cesari. Un budget da 120 mila euro che assicura quindi la manifestazione. L'impegno è di farla per i prossimi tre anni senza interruzioni soprattutto perché questo è il problema. Comunque, 120 mila euro assicurati da enti pubblici e da sponsor. Per accogliere il pubblico ci vogliono tre tribune da 4.500 posti. E poi c'è il discorso della sicurezza rafforzata, come scrive Anna Marchetti stamattina. Rispetto alle precedenti edizioni di sette anni fa, ora ci saranno, come è successo per il Carnevale, nuovi accorgimenti. E poi sul caso del circolo tennis della trave, l'assessore Del Bianco, Caterina Del Bianco, fa una schiacciata contro Lungarini. Le difficoltà finanziarie non fanno cedere l'assessore che ribadisce. Non possiamo rimediare a tutto noi. Bandiere blu, non ovunque però, come abbiamo già visto anche ieri. Fuori infatti Lido, Arzilla, Sassonio Sud, esclusa la zona libera fino a Ponte Metauro e dopo Ponte Sasso. Il riconoscimento dipende da molti fattori e Aset lavora proprio per estendere certe aree. E sotto tornano a rombare i pistoni di sapori e motori dall'8 al 10 giugno sul lungomare del Lido di Sassogna. Poi siamo solidi, nessuna alleanza. Il presidente Rondina della BCC annuncia la strategia della banca. E poi si inventavano incidenti, sono stati tutti prosciolti. Scoperta la truffa, 12 imputati hanno restituito l'indennizzo e il reato è stato prescritto. Mentre questo esibizionista che è entrato qualche giorno fa in chiesa mezzo nudo, insomma, è stato identificato. Ma se la caverà con una contravenzione che sicuramente non pagherà. E poi l'ultima pagina è quella di Urbino, del resto del Carlino. Finisce male l'ordinanza contro i cinghiali, affossata dalla mancanza di normative. Il sindaco Gambini dice la regione faccia la legge, il problema rimane. Poi sotto, violento temporale allaga strade e cantine, intervento dei vigili del fuoco per recuperare un furgone. Il furgone è questo che vedete qua, che vi ho cerchiato. Ecco, se volete vedere anche le immagini, ve le abbiamo fatte vedere ieri nel telegiornale. Potete rivederle tra poco nel corso delle repliche del Tg che andranno in onda alle 11 alle 13 e 45 circa. Bene, la rassegna stampa finisce qui. Io vi saluto, vi ricordo che questa sera, dopo il telegiornale delle 20 e 30, c'è Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri, che sarà in diretta qui nei nostri studi per rispondere alle vostre domande. Se volete inviarci già da adesso i vostri messaggi, le vostre richieste, fatelo con messaggi molto brevi, chiari, cercate di scrivere in maniera sintetica, anche al 338 4968 250. Grazie per essere stati con noi e a voi tutti l'augurio di una buonissima giornata. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi